Gentili telespettatori, buona giornata. In caso di scissione ci sono sul tavolo dei litiganti ben 13 milioni. Non di votanti, di euro, parliamo sempre di soldi, la sfida è sui rimborsi. Ebbè, il mondo gira intorno ai soldi, che facciamo? Ci stupiamo che si parla di 13 milioni di euro e non di votanti. Ecco, quei votanti che il Movimento 5 Stelle ha perso. Fondi pubblici ai gruppi parlamentari sono calcolati in base al numero dei componenti a Camera e Senato. I rischi per il Movimento e le difficoltà per il possibile nuovo partito dell'ex premio. Perché tolti, se i parlamentari se ne vanno, se ne vanno anche gli sordi. Ecco, ed è quello che interessa molto. Che ogni divorzio si arriva poi a parlare di soldi. Tu mi devi dare, è mio, è mio. E sul tavolo di questo drammatico Movimento 5 Stelle teatrale, perché si potrebbe scrivere un libro, no? Ascesa e caduta del leggendario Movimento Rivoluzionario a 5 Stelle, come un hotel di lusso. L'hotel di lusso dove sono arrivati i grillini. Quei 13 mila euro netti al mese sono le 5 Stelle, no? Quattro stelle era se facevi il presidente di regione, tre stelle se facevi il sindaco di una grande città, Movimento 2 Stelle se facevi il sindaco di una media città, Movimento 1 Stelle se facevi il sindaco di una piccola città, un assessore, no? Che hanno il rimborso. Ecco, pertanto Movimento 5 Stelle, perché quelli che sono arrivati lì in Parlamento si sono trovati uno stipendio a 5 Stelle. Bella questa, mi è piaciuta, eh? Momoma a segno. E così, a tanto ammonta, per precisare 12,6 milioni di euro, sono i soldi che ballano. La sola voce dei rimborsi ai gruppi parlamentari del Movimento, la benzina essenziale per consentire il funzionamento della macchina e dell'attività politica dei 5 Stelle che non percepiscono finanziamenti privati e devono contare sui contributi degli eletti, molti dei quali non pagano il proprio movimento. Attenzione che molti politici 5 Stelle che pensano di andare con Conte non solo per avere garantito magari la possibilità di avere un posto in politica nella prossima legislatura, ma anche perché non stanno pagando il Movimento 5 Stelle. E allora dice andiamo con Conte così cancelliamo il debito, me ne vado, che volete, no? Sapete che ogni politico in Italia deve, deve, tutti i politici in Italia danno dei soldi al proprio partito. Quando gli arriva allo stipendio chi più chi meno danno dei soldi concordati col partito, chi 3.000 euro, chi 2.000, chi 900, chi 500, chi 1.500, chi 2.200, tutti i parlamentari prendono dal loro stipendio dei soldi e li danno al partito per il mantenimento del partito stesso. Gli unici in Parlamento che non pagano in gran parte il proprio partito chi sono? I 5 Stelle. Voi prendete un uomo qualunque, una donna qualunque, li mettete in politica, queste poi sono le reazioni. È mio, è mio, è mio! Ecco, voi prendete gente così a caso in giro e mettetela in Parlamento e poi troverete delle reazioni di questo tipo, diciamo. E così a Scissiuna, con la possibile nascita del partito di Conte, oltre che politica, è una mera questione di denaro. Alla Camera il Movimento percepisce circa 53.000 euro l'anno per ciascuno dei 161 deputati, ciascuno dei 100, non 53.000 in totale, 53.000 per 161. Fate un po' il conto, sono 800, 800.000, oltre 800.000 euro solo per quelli alla Camera. Mentre a Palazzo Madame lo Stato rimborsa i 5 Stelle 55.000 euro per ciascuno dei 75 senatori. Quindi quanto potrebbero essere? Qualcosa come 400.000 euro. Più 800.000 siamo un milione e due, solo di rimborsi dello Stato. Si parla con pallottoliera alla mano di 8,5 e 4,1 milioni all'anno. Forse ho fatto i calcoli un po' male, non erano 850.000 ma erano 8 milioni e mezzo, non erano 400.000 ma erano 4 milioni. Pertanto si parla di 12 milioni all'anno. Si parla di 12 milioni di euro all'anno. E poi c'è la gestione di oltre 100 dipendenti che consentono il funzionamento dalla macchina parlamentare grillina. 130 dipendenti, eh? 80 dipendenti a Montecittorio e 55 al Senato. In caso di scissione morti di loro dovrebbero essere licenziati perché verrebbero a mancare i fondi per gli stipendi. E del loro futuro che ne sarebbe? Con quale dei nuovi partiti? Con quello che resta dei 5 Stelle o andrebbero con quel nuovo partito di Conte? O Conte assumerebbe nuove persone lui? Eh beh, assumere il potere. Io assumo, ho il potere. Se io prendo quelli già assunti da altri non ho potere, pertanto capite? E così la rottura che ormai c'è, c'è, bisogna trovare una via d'uscita. L'ex premier per porre le basi e costruire il suo partito ha bisogno di soldi e non pochi. Il primo passo in questo percorso sarebbe la creazione di due nuovi gruppi parlamentari. Alla Camera, secondo le ipotesi, sembrerebbe contare con 80 eletti Conte. E potrebbe nascere facilmente anche al Senato, addirittura si parla anche di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle che passerebbero con Conte. Pertanto ci sarebbe un travaso di soldi che andrebbe dal Movimento 5 Stelle al partito di Conte. Con quei soldi potrebbe assumersi Rocco. Voi dite Rocco chi? Rocco Casalino, no? Voi dargli 150 mila euro a spese dei grillini. Adesso, caro Giuseppi, dovrai dargli, se vuoi, 150 mila euro a spese del tuo nuovo partito. Eh, sai, 150 mila euro per Rocco Casalino, insomma. Con quei soldi ci paghi l'affitto di uno stabile a Roma. Ci fai gli uffici. Capisco la tua stima amicizia per Rocco, ma Rocco 150 mila euro mi sembra leggermente eccessivo. Eh, che dite? Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video. Ricordatevi che siamo anche su Teleitalia Seconda Rete, sempre qua su YouTube, dove vi invito a visitare questo canale se vi interessa iscrivervi, perché sono sempre io che parlo, sempre il mio... sembro io, so. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Grazie.